Grazie Presidente, anch'io come il collega Sensi, ancorché sia all'opposizione, avverto la corresponsabilità per le condizioni disumane in cui versano detenuti, anche detenuti in via di giudizio, nelle carceri italiane. Ormai le cronache giornaliere ci restituiscono un'immagine indecorosa delle condizioni di detenzioni di tanti cittadini. E allora proprio perché conosciamo, ed è stato evocato in quest'Aula più volte, il numero delle persone che si sono tolte la vita, 61 all'interno delle carceri italiane, le condizioni igieniche, sanitarie, ma anche le difficoltà per la Polizia Penitenziaria nel svolgere il proprio servizio, noi ci saremmo aspettati da parte della maggioranza un atteggiamento diverso, una diversa consapevolezza, a partire da un esame più aperto degli emendamenti che l'opposizione in Commissione Giustizia ha presentato. E soprattutto ci saremmo aspettati misure concrete per rispondere all'emergenza del sovraffollamento. Noi, come ha sottolineato il collega Lombardo, non abbiamo votato a favore della pregiudiziale perché riteniamo che le condizioni di necessità e urgenza ci siano tutte, ma per esserci queste condizioni sarebbero indispensabili misure forti contro il sovraffollamento. Invece le misure contenute in questo provvedimento sono in parte condivisibili, certo che servono più agenti e mille agenti in più sono meglio che niente, certo che occorre snellire la burocrazia carceraria per rendere più tempestivo l'accesso ai benefici per chi ne ha diritto e certo che occorre individuare percorsi diversificati per i tossicodipendenti, ma ci sono colleghi delle domande che noi ci siamo posti rispetto alle quali non abbiamo trovato risposta. In particolare, cosa fa concretamente, cosa introduce concretamente questo decreto per risolvere il problema del sovraffollamento e fermare la piaga dei suicidi? Cosa si fa per rendere decorose le condizioni dei detenuti? E ancora, rispetto all'articolo 27 della nostra Costituzione, che prevede al terzo comma che le pene non possano consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato? Beh, questo provvedimento fa poco o nulla. E non a caso il collega Lombardo ancora una volta ha citato le parole del Presidente Mattarella, che ha definito questa condizione indecorosa per un Paese civile quale è e deve essere l'Italia. Certo, noi non abbiamo difficoltà ad ammettere che non è una colpa solo vostra. Siamo intellettualmente onesti e sappiamo che anche altri governi e altre maggioranze poco o nulla hanno fatto su questa materia. E voglio citare nel 2013 le parole di Giorgio Napolitano, che avvertì la necessità di indirizzare un messaggio alle Camere denunciando l'inderogabile necessità di porre fine all'emergenza carceri. E certo non si può non ricordare la sentenza Torreggiani. E oggi purtroppo l'Italia è di nuovo su quella china e proseguendo di questo passo sarà difficile invertire il trend ed evitare una nuova condanna da parte della CEDU. E allora vorrei ricordare che nella invivibile situazione delle nostre carceri non si trovano solo conclamati delinquenti. Un terzo dei detenuti è in attesa di giudizio e dovrei ricordarvi che il garantismo in un Paese civile non può fermarsi dinanzi alle porte di un carcere. E dell'articolo 27 non si può ricordare solo il secondo comma che nessuno è colpevole fino a condanna definitiva. Bisogna applicare anche il terzo comma, quello che impone umanità e rieducazione. E certamente è importante per evitare le recidive la presenza della formazione e del lavoro ma le condizioni delle carceri italiane non sono come quella di bollate. In molti casi la formazione e il lavoro non è possibile perché non ci sono gli spazi. E allora con i colleghi trasversalmente, con la Fondazione Severino, con Etica Re, con tante associazioni del terzo settore abbiamo promosso degli incontri per favorire la costruzione di condizioni vivibili all'interno delle carceri italiane, per favorire la presenza delle imprese perché il lavoro non può derivare solo dal pubblico ma deve essere anche il mondo delle imprese che sono disponibili a dare un contributo perché il lavoro possa dare dignità e possa dare un senso e una speranza rispetto alla detenzione perché lo sappiamo, l'illegalità provoca emergenze e l'emergenza costruisce e produce illegalità e con il 130%, in alcuni casi come a San Vittore con il 200% di sovraffollamento non esiste legalità. Eppure di fronte a questa situazione il disegno di legge Giacchetti che anche noi abbiamo presentato al Senato sotto forma di emendamenti non lo avete preso minimamente in considerazione. Lasciatemi dire che questo è un errore perché venendo alle parole della Presidente Buongiorno nessuno di noi vuole l'indulto, l'amnistia, lo svuota carceri ma semplicemente occorre creare le condizioni perché la semplice riduzione di una parte della pena da parte di chi ha già pagato e a lungo i suoi errori in carcere e deve essere condizionata alla buona condotta tutto questo si deve concretizzare e invece tutto questo non è stato possibile perché quel provvedimento non è stato preso in considerazione. E quindi di fronte a tutto questo noi vi chiediamo di rinunciare alla demagogia e di scegliere l'interesse generale della società non solo di chi è detenuto e di evitare una nuova condanna dell'Italia da parte della CEDU. Con questo decreto avete purtroppo perso un'occasione e per questo il nostro non può essere che un voto contrario.